Buongiorno, a schifo si aggiunge schifo. Vi abbiamo già raccontato nei giorni passati alcuni casi in cui la manodopera dei clandestini giunti in Italia finiva con trasformarsi in vera e propria schiavitù e trascinava poi nella schiavitù anche i lavoratori, gli imbraccianti, i fattorini italiani. Bene, dicevo all'inizio che a schifo si aggiunge schifo, infatti ieri nelle pagine del Corriere della Sera edizione di Milano c'era un bellissimo articolo di Luigi Ferrarella che illustra un nuovo caso, a mio modo di vedere, clamoroso, credo che uscirà presto dalle pagine del quotidiano locale per arrivare a quelle del nazionale. Infatti la procura di Milano si è allertata e ha convocato l'intera filiera della logistica italiana, vale a dire sarebbe la filiera di coloro che distribuiscono ad esempio i pacchi che vi arrivano a casa e che trasportano quindi le merci che ordinate online. Cosa succede? Succede che i grandi gruppi si avvalgono del lavoro di cooperative, cooperative che sono una specie di nebulosa indistricabile dal quale però viene fuori un panorama ricostruito appunto dalla procura agghiacciante perché siamo alle solite. Nuovamente vengono reclutati lavoratori in regola o forse no, sottoposti a 11-12 ore di lavoro, pagati una miseria e privi di qualunque tutela e addirittura è stato calcolato che se il mercato si è così deformato a causa di questa offerta di manodopera a basso costo che se provasse a rimettersi in regola metà delle cooperative fallirebbero. Quindi è una distorsione gravissima ma la cosa che importa notare è che è un ennesimo caso di lavoro sottopagato che si trasforma in vera propria schiavitù. Noi tutti possiamo capire da che cosa sono innescati questi movimenti a ribasso, questa compressione dei salari e derivano dall'offerta gigantesca di manodopera a costo nullo che viene offerta da chi sbarca in Italia. È per questo che noi vogliamo che i porti rimangano ben sigillati perché noi non vogliamo che venga reintrodotta silenziosamente la schiavitù, cosa che sta invece accadendo.